Allarme della direzione investigativa antimafia. La pandemia rappresenta una grande opportunità per le mafie, si legge nel rapporto semestrale e specie nel settore sanitario. E la criminalità organizzata approfitta della crisi anche per fare incetta di attività commerciali. Sentiamo Cesare Cavone. Un rischio concreto di infiltrazione mafiosa dell'economia legale, specialmente nel settore sanitario. I clan starebbero cioè tentando di mettere le mani sui finanziamenti per le grandi opere e la riconversione alla green economy. La direzione investigativa antimafia nell'ultima relazione semestrale parla di segnali embrionali che però dovrebbero portare le istituzioni a tenere alta l'attenzione soprattutto sulle possibili infiltrazioni negli antilocali e sulle ingenti risorse destinate al rilancio dell'economia del paese. Le indagini della DIA raccontano di una criminalità organizzata che durante il lockdown ha continuato ad agire sotto traccia. Diminuite le attività criminali più importanti e fonti di denaro come il traffico di droga, le estorsioni, la ricettazione e le rapine ha però aumentato in particolare al nord e al centro l'attività di riciclaggio acquisendo attività commerciali come ristoranti e bar in crisi a causa della pandemia. Intanto facendo leva sulla crisi economica derivata dalla pandemia, le cosche attraverso la loro disponibilità economica puntano ad incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà con il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole possano essere fagocitate nel medio tempo dalla criminalità diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti.